Edo di questi tempi la parola incredibile viene spesso abusata, però oggi è stata veramente una partita incredibile. Eh sì, hai detto non aggiungo altro, non tolgo niente, però sono le qualità caratteriali che hanno fatto la differenza, quindi questa è la cosa bella insomma. Appunto c'è stata subito nel secondo tempo veramente una risposta di carattere, come una squadra che ha carattere. Sì, dopo le qualità tecniche e le qualità tattiche abbiamo dimostrato che le qualità caratteriali sono importanti e fanno la differenza, quindi siamo contenti e pensiamo alla prossima. Siamo comunque, questo può solo che portare entusiasmo e consapevolezza. Che emozioni hai provato al gol? Ero contento, ero quasi più contento sul 4-3 quando ho passato la palla a Beppe, quindi veramente siamo tutti felici, ce la meritiamo e continuiamo così che ci divertiamo. Grazie mille.